Come racconta il messaggero, Cecchetto è stato portato via dall'hotel Nau di Milano, dove si è tenuto l'evento, in ambulanza. Il giorno prima si sono tenuti i funerali della madre di Claudio ed è probabile che per il 67enne non sia stato facile ritornare alla vita di tutti i giorni. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del produttore. Tutto tace, non c'è stata alcuna nota stampa dal suo entourage né alcun commento sui social network, e in particolar su Instagram, dove Cecchetto è sempre molto attivo. Ciao 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 Ciao